Una promessa a questo giovanissimo pilota Dalla Repubblica C, adesso Nuovamente in posizione, subito il backflip per Radek Belenke Eccolo qui, l'aveva promesso, l'abbiamo nuovamente disposto alla rampa E come promesso, giustamente, ci regala immediatamente il backflip Davvero, quindi un applauso più di verità per il nostro Radek Davvero, come stavo dicendo, una grande promessa L'ho dimostrato, quindi portandosi in sera da subito E la sua big fight che, naturalmente, poi ci farà venire quello che è capace Anche più tardi con il primo ingresso In compagnia loro ultima, quindi freestyle molto grosso Adesso, come da copione, io voglio dire Come dico, l'impernatore E poi, l'unica a seguire, è una stunt band con Emo L'Evento E poi concluderemo con FMX La tabottina